Picchia il compagno della madre lo manda in ospedale e è accaduto l'altro giorno a Prato la Peligna dove si è sfiorata la tragedia per una lite di famiglia. Da quanto si è appreso un giovane di circa 20 anni, probabilmente in un momento di rabbia, avrebbe spinto con forza un 52enne del luogo, il quale, a seguire dell'aggressione e delle riferite percosse, sarebbe finito con la testa contro il muro dell'abitazione. Da lì la corse in ospedale con ambulanza del 118, dove l'uomo è stato trattato dai sanitari del pronto soccorso che gli hanno diagnosticato una ferita lacerocontusa giudicata guaribile con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per svolgere rilievi di rito e riportare la calma. Per la procedibilità dell'indagine è necessaria la querela di parte, che per il momento non è stata ancora depositata.